grande cura per le parole. Un nuovo modo di fare politica, care amiche e cari amici, deve iniziare dall'attenzione alle parole e al linguaggio, che sono importanti per migliorare i legami di integrazione e per rafforzare la coesione sociale. In passato, e sono ben consapevole, il movimento è ricorso anche espressioni giudicate spesso aggressive. All'assalto al palazzo, la forza di rottura che avete interpretato non poteva essere giocata di fioretto. Ma ogni fase è la sua storia. Dobbiamo essere consapevoli che la politica non deve lasciarsi accecare dalla polemica, dalla superficialità degli scambi. Deve cercare la politica stessa a profondità di pensiero, il contributo rispettoso anche delle opinioni altrui, deve riconoscere anche la bontà delle idee altrui. Con le parole giuste noi possiamo contribuire ad arricchire l'esperienza culturale della nostra comunità. Grazie. Grazie.